In calo rispetto all'ultimo aggiornamento i dati sui nuovi casi di covid in Italia con 86.067 nuovi casi mentre il dato riguardante la Sicilia indica 6.236 nuovi positivi. Nel territorio nisseno il numero dei guariti 370 supera quello dei nuovi contagiati 312 tutti in isolamento domiciliare. 95 dei nuovi positivi sono di Gela, 75 di Caltanissetta, 26 di Niscemi, 19 di San Cataldo, 17 di Riesi, 14 di Sommatino, 12 di Butera, 11 di Serra di Falco, 9 di Mazzarino, 8 di Mussomeli, 5 di Milena, 4 di Santa Caterina, 3 di Campofranco, 3 di Montedoro, 2 di Acquaviva, 2 di Bonpensiere, 2 di Delia, 2 di Marianopoli, 2 di Vallelunga e 1 di Sutera. Ricoverati in degenza ordinaria 3 pazienti di Gela e 1 di Niscemi mentre sono stati dimessi dalla stessa degenza ordinaria un paziente di Caltanissetta e 1 di Gela e invece è deceduto un paziente proveniente da fuori provincia positivo al virus. Per quanto riguarda i guariti 130 sono di Gela, 109 di Caltanissetta, 24 di Niscemi, 23 di Mazzarino, 22 di San Cataldo, 19 di Mussomeli, 10 di Sommatino, 6 di Vallelunga, 5 di Santa Caterina, 4 di Butera, 4 di Villalba, 3 di Bonpensiere, 3 di Milena, 2 di Campofranco, 2 di Delia, 2 di Resuttano, 1 di Montedoro e 1 di Riesi.